ciao qui matteo bellini di chef del benessere ti do il benvenuto anche oggi nella mia videopillola mattutina nella quale per la rubrica raccogliamo ti voglio parlare della piantaggine la piantaggine è un'erba selvatica commestibile molto comune che si trova lungo le strade ma anche nei prati abbandonati e in montagna è una pianta arbacea annuale e le sue foglie possono venire raccolte durante tutto l'anno sulla pelle la piantaggine ha importanti proprietà lenitive applicata come un guento o semplicemente sminuzzando le foglie e passandole sulla pelle allevia sensibilmente il dolore provocato da punture di insetti ferite e graffi il tè di piantaggine ha effetti sul sistema digestivo mentre i semi del suo lungo fiore si possono trovare in erboristeria ed essere utilizzati come integratore e come lassativo in cucina sono le tenere rosette della piantaggine ad essere consumate crude in insalata o cotte al vapore per insaporire frittate e zuppe bene anche per oggi ho detto tutto io come sempre ti ringrazio ti mando un abbraccio ti auguro buona cucina e ti do appuntamento a domani con la prossima videopillola sempre alle 8 sempre con me ciao